iscritto vorrei guidarmi come Gaia si fiede dire il topo ma no non succede niente no amo i topi sono anch'io così amo non può scappare niente è un movimento sbagliato è un movimento di spalle così si vede gravi e non lo guarda si mille mille chiocciola Fabio99 che sta con la pega in mano da anni sulle tue live ha raccicolato ben 36.000 punti di seghe cosa ne pensi grazie grazie